Non so se segui abitualmente i TED Talk, io lo faccio e sono estremamente interessanti, ma sono reduce da uno di questi particolarmente interessante in cui un ricercatore di origine italiana ma che lavora in Inghilterra parlava di intelligenza artificiale. Spiegava come l'intelligenza artificiale rifiutata da molti, un pochino me compreso devo dirlo, è in realtà uno strumento imprescindibile da utilizzare nel nostro prossimo futuro, anche perché che vogliamo o meno verrà integrato, anzi è già stato integrato nella maggior parte delle nostre applicazioni e nei nostri strumenti di utilizzo quotidiani come appunto il computer stesso, lo smartphone e così via. Allora tanto vale iniziare ad usarlo ma con attenzione e consapevolezza e questo ha dato origine all'idea del video che sto per proporti in cui andremo a vedere come utilizzare Copilot senza però andare ad incrinare minimamente la nostra sicurezza. Pensi che sia impossibile? E io invece dico di no, anzi te lo voglio dimostrare. E quindi se ti senti pronto, iniziamo! Ostinarsi a non voler utilizzare l'intelligenza artificiale al giorno d'oggi è come incaponirsi ad utilizzare il telegrafo al posto del telefono. Queste sono le parole del ricercatore che ho appena ascoltato. Sarà vero? Non sarà vero? In realtà c'è molto da discutere ma ci sono dei dati di fatto che giocano indiscutibilmente devo ammetterlo anch'io a favore dell'intelligenza artificiale. Sono quelli che voglio farti vedere quest'oggi ma soprattutto voglio mostrarti come utilizzare questo strumento in sicurezza e senza rinunciare ai tuoi dati. Prima di farlo tuttavia abbiamo necessità di compiere il nostro quotidiano rituale apotropaico per tenere a bada le divinità del tubo che talvolta sanno essere davvero malvagie. Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti va! In un video di qualche giorno fa ho mostrato uno script che ci consentiva di rimuovere Copilot e Recall dai nostri pc. Tuttavia mentre Recall rappresenta un potenziale rischio per la nostra sicurezza e la nostra privacy, Copilot è uno strumento decisamente più borderline. Tanto che molti membri della community mi hanno chiesto come fare a ripristinarlo oppure ad installarlo su pc con Windows 11 23 h2 o Windows 11 24 h2. Questo è esattamente quello che andremo a vedere nel video di oggi ma con un occhio di riguardo per quanto concerne dati personali e privacy. Ok il primo consiglio che voglio darti ma è una cosa assolutamente facoltativa che puoi anche non fare se non ne hai la possibilità è quello di installare Copilot su una macchina virtuale e questo per creare dei compartimenti perfettamente stagni rispetto alla tua macchina fisica su cui potrai utilizzare Copilot tranquillamente senza assolutamente alcuna fuoriuscita di dati. Se questo non ti fosse possibile non preoccuparti assolutamente perché come vedremo a breve con un altro semplicissimo accorgimento potremo ottenere un risultato in larga parte sovrapponibile. La prima cosa che dobbiamo fare tuttavia prima di cominciare è quella di andare a controllare che la nostra macchina sia completamente aggiornata. Possiamo farlo portandoci qui in basso sul pulsante Start, scegliendo la voce Impostazioni, successivamente sul lato sinistro portandoci su Windows Update e andando a cliccare questo pulsante qui, quello che dice verifica disponibilità aggiornamenti. Una volta che ci saremo accertati che la nostra macchina è completamente aggiornata potremo procedere. In questo caso sta scaricando e ha completato l'aggiornamento di Windows Defender quindi posso chiudere e passare allo step successivo. Lo step successivo prevede che noi clicchiamo su quest'altra icona, quella del Microsoft Store che se non fosse presente qui sotto puoi trovare anche nel menu Start oppure facendo una ricerca e una volta aperta qui in alto nella barra di ricerca andremo a digitare Copilot. Premiamo invio ed effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento a questo risultato, quello con questa icona qui con scritto Microsoft Copilot. Clicchiamo sul pulsante Ottieni e vedremo che in alcuni secondi Copilot verrà installato sul nostro pc. Ecco fatto, a questo punto l'installazione è completata e ci viene proposto di aprire Copilot, cosa che possiamo fare tranquillamente cliccando su questo pulsante. A questo punto massima attenzione perché quello che ti consiglio di fare è di aggiungere Copilot alla barra delle applicazioni, aggiungerlo se vuoi al pulsante Start, creare opzionalmente, io non lo faccio mai un collegamento sul desktop ma soprattutto non spuntare la voce Avvio automatico all'accesso del dispositivo. Copilot dobbiamo avere la possibilità di aprirlo e chiuderlo quando diciamo noi. Una volta che avremo impostato queste opzioni esattamente così, cliccheremo sul pulsante Consenti e potremo chiudere la finestra retrostante, cioè quella relativa al Microsoft Store. Ci viene chiesto in basso se vogliamo aggiungere Copilot alla barra delle applicazioni e noi cliccheremo su sì per confermare la nostra scelta. Ed ora occhio alla penna perché Copilot per poter essere utilizzato ci richiede un account Microsoft. Andiamo a chiedergli se questa cosa è davvero indispensabile. Vediamo che cosa ci risponde. Ebbene sì, a quanto pare serve un account Microsoft e infatti ci suggerisci di creare un account gratuito su Microsoft se ancora non ce l'hai. E la garbola è proprio qui perché quello che ti consiglio di fare io è di creare un account Microsoft apposito per Copilot, anche nel caso in cui tu disponga già di un account Microsoft attivo e funzionante. Vediamo come fare. Nel caso in cui abbiamo già un account Microsoft configurato sul nostro PC è molto probabile che avremo già effettuato l'accesso, altrimenti questo pulsantino qui avrà un aspetto diverso. Nel caso in cui sia così, clicchiamo su questo pulsantino, clicchiamo sulla voce disconnetti e confermiamo di volerci disconnettere con questo pulsante. Adesso il pulsantino avrà l'aspetto che vedi in questo momento. Ci sarà scritto accedi. Clicchiamo su accedi, clicchiamo nuovamente sul pulsante accedi e andiamo a dire che vogliamo creare un nuovo account Microsoft facendo clic su questo link. Fare clic qui per crearne uno. Ora clicchiamo sulla voce usa un altro account e quindi sulla voce creane uno. Ci avrà chiesto di inserire un nuovo indirizzo email, mi raccomando diverso rispetto a quello dell'account principale. clicchiamo su successivo. Ci avrà chiesto di inserire il nostro nome e il nostro cognome. clicchiamo ancora su successivo. Digitiamo la nostra data di nascita. Sì, mi piacerebbe, ne ho messa una un po' casuale. E a questo punto ci verrà inviato un messaggio email che dovremo andare semplicemente a confermare per attivare questo nuovo account. Fatto questo saremo pronti ad utilizzare il nostro copilot. Per farlo dovremo cliccare sulla voce accedi, quindi nuovamente su accedi ed andare a digitare i dati relativi all'account che abbiamo appena creato. E a questo punto siamo pronti per utilizzarlo e non vedo l'ora di fargli una domanda un po' peperina, e cioè questa. E la sua risposta è che capisce che questa sia una nostra preoccupazione e che la dichiarazione sulla privacy di Microsoft è il posto giusto per trovare tutte le risposte che cerchiamo e ci allega un link che andiamo subito a guardare. Aiuta a chiarire come vengono gestiti i nostri dati. Sono proprio curioso di saperlo. Che cosa succede ai nostri dati quando utilizziamo Copilot? Microsoft ci rassicura e ci dice che abbiamo noi il controllo dei nostri dati e che lei non li condivide con terze parti a meno che noi non abbiamo concesso l'autorizzazione a farlo, cosa che può avvenire molto facilmente durante l'installazione di Windows e o quando andiamo ad accettare determinate clausole e contrattuali. Inoltre non vengono usati i dati dei nostri clienti, io credo che questa sia una traduzione molto maccheronica, il che è abbastanza grave trattandosi di una questione di privacy e di dati personali, per eseguire il training di Copilot oppure delle sue funzionalità di intelligenza artificiale. A meno che, nuovamente, non abbiamo noi dato il consenso in tal senso. Copilot aderisce alle autorizzazioni e ai criteri sui dati esistenti e le risposte che fornisce si basano solo sui dati a cui possiamo accedere personalmente. Un'altra affermazione piuttosto fumosa. Ma vediamo in che modo Copilot utilizza i nostri dati. Le nostre richieste, ovvero le domande che gli poniamo e le risposte di Copilot, non sono disponibili ad altri clienti, non vengono utilizzate per eseguire il training o migliorare prodotti e servizi di terze parti e non vengono utilizzati per addestrare o migliorare i modelli di intelligenza artificiale. Ma il bello viene nella prossima frase quando gli viene chiesto dove vanno i miei dati. La risposta è che Microsoft si basa sulla fiducia e che si impegna a garantire la sicurezza, la privacy e la conformità in tutto ciò che fanno e il loro approccio all'intelligenza artificiale non è diverso. Andiamo bene. I dati dei clienti, inclusi gli input e gli output di Copilot, vengono custoditi nel loro cloud. Insomma, Copilot è uno strumento sicuramente molto potente, molto interessante e molto utile che ha una serie di potenzialità che se vuoi esploreremo in un video successivo. Questo fammelo sapere nei commenti. Ma il mio consiglio resta granitico e quindi se puoi utilizzalo su una macchina virtuale e sicuramente utilizzalo con un account Microsoft secondario stando attento ad aprirlo e chiuderlo quando dici tu. Ma veniamo a noi o meglio ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima!